Seggi aperti domani dalle 7 alle 23 per il referendum sulle Trivelle. A Gela sono 60.005 gli elettori chiamati alle urne. A questi vanno aggiunti 5.800 elettori che potranno esprimere la propria preferenza all'estero. I seggi in città sono 71, oltre a quelli speciali dell'ospedale Vittorio Emanuele e del carcere di Contrada Balate. Possono votare tutti coloro i quali hanno compiuto il diciottesimo anno di età alla data di domani. Per votare l'elettore deve esibire la tessera elettorale ed un documento di riconoscimento personale. Nel caso la tessera elettorale non risulti più utilizzabile per l'esaurimento di tutti gli spazi relativi alla certificazione del voto, occorre, prima di presentarsi a votare, richiedere una nuova tessera elettorale. Si vota, lo ricordiamo, per l'abrogazione del comma 17, terzo periodo, dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, numero 152, come sostituito dal comma 239 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, numero 208, limitatamente alle seguenti parole, per la durata di vita utile del giacimento nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Questa norma permette la ricerca e lo sfruttamento di giacimenti petroliferi o di gas naturale nel territorio nazionale, compresi i mari, entro le 12 miglia dalla costa. Chi vuole l'abrogazione di questa possibilità deve votare sì, chi non la vuole deve votare no. Il referendum abrogativo è disciplinato dall'articolo 75 della Costituzione. Si ricorre a questo tipo di referendum per deliberare l'abrogazione parziale o totale di una legge quando lo richiedono 500.000 elettori o 5 consigli regionali. Nel caso del referendum di domani, i consigli regionali che hanno chiesto la consultazione sono stati 10. La proposta soggetta al referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli eventi diritto, il cosiddetto quorum, e se raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. 50% degli iscritti al voto su base nazionale più un elettore.